laudatus essem che io fossi stato lodato è il congiuntivo più che perfetto passivo prima persona singolare di laudo laudare in latino il congiuntivo più che perfetto passivo come l'indicativo più che perfetto passivo è una forma perifrastica non è costituita cioè da un'unica voce verbale ma da due dal participio perfetto laudatus e dalle voci dell'imperfetto congiuntivo di summa come si forma il più che perfetto attivo delle quattro coniugazioni partiamo sempre dall'audo laudare prima di tutto abbiamo bisogno del participio perfetto prenderemo la quarta voce del paradigma il supino laudatum staccheremo la desinenza um e aggiungeremo le desinenze del participio perfetto laudatus laudata laudatum per il singolare a queste aggiungeremo le forme del dell'imperfetto di summa sms est quindi avremo laudatus laudata laudatum sms est dunque che io fossi stato lodato o che io fossi stata lodata oppure il condizionale passato io sarei stato lodato che tu fossi stato lodato che gli fosse stato lodato al plurale avremo laudati laudate laudata e semus estis essent quindi che noi fossimo stati lodati che voi foste stati lodati che essi fossero stati lodati ripetiamo la stessa identica procedura per le altre coniugazioni e dunque avremo monitus monita monitum sms est che che io fossi stato esortato che tu fossi stato esortato che gli fosse stato esortato moniti monite monita e semus estis essent che noi fossimo stati esortati che voi foste stati esortati che essi fossero stati esortati stesso procedimento per leggo leggere lectus lecta lectum sms esset che io fossi stato letto che tu fossi stato letto che egli fosse stato letto lecti lecte lecta semus essetis essent che noi fossimo stati letti che voi foste stati letti che essi fossero stati letti e finiamo con audio audire auditus audita auditum sms esset che io fossi stato che noi fossimo stati uditi che voi sò stati uditi che essi fossero stati uditi